Sarebbero i 500.000 euro di sponsorizzazione sotto forma di crediti di imposta ceduti dalla OMAV alla US Pistoiese 1921 ad aver dato il via alle indagini della Guardia di Finanza di Pistoia sulla gestione della società calcistica arancione. La sponsorizzazione risalirebbe al primo semestre 2022, quando la Pistoiese, già in era Lehman, era ancora in Serie C e dunque sottoposta ad una periodica revisione contabile da parte di una società indipendente. Società che rispetto allo stato patrimoniale della Pistoiese al 30 giugno 2022 avrebbe evidenziato pur nella correttezza formale del bilancio una situazione di incertezza proprio sulla consistenza dei crediti di imposta ceduti dalla OMAV. In quel periodo infatti era in corso un'indagine della Procura di Avellino che coinvolgeva anche la OMAV relativa all'ipotesi di truffa per falsi crediti di imposta su bonus facciate o bonus ristrutturazioni. Ai tempi furono due le società coinvolte e 11 gli indagati e tra questi anche Maurizio De Simone che in quel periodo era dipendente OMAV. Nei primi giorni di dicembre 2022 le fiamme gialle entrarono anche nella sede pistoiese della OMAV ed è stato allora che l'attività degli inquirenti pistoiesi si è intrecciata con quella della Procura di Avellino. La svolta giovedì 4 aprile con l'esecuzione di misure cautelari a livello internazionale per indagini eseguite da una terza procura, quella europea. 24 persone coinvolte accusate a vario titolo di associazione per delinquere, truffa aggravata legata ai fondi PNRR, false comunicazioni sociali. Tra queste anche Maurizio De Simone, ex garante del Trust Orange, Stefan Lehmann, imprenditore tedesco che rilevò la società sportiva nel gennaio 2022 e poi uscito di scena a metà 2023 e Omar Vecchione a capo della OMAV, partner commerciale della pistoiese, fino al dicembre 2022. Se quella europea è un'indagine su una maxifrode milionaria ai danni dell'Unione Europea, a livello locale la Procura e la Guardia di Finanza di Pistoia hanno parallelamente concentrato le indagini sui conti e sui bilanci della pistoiese. Adesso, dopo il sequestro di giovedì di conti e computer dagli uffici della società all'interno dello Stadio Melani, il lavoro delle fiamme gialle pistoiese si concentrerà sull'analisi di tutti i registri contabili e delle fatture della società dal 2022 ad oggi.